Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dall'A1 dove a causa di materiali dispersi in carreggiata si registrano rallentamenti tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Sempre in A1 stasera dalle 20 alle 24 si ricorda che per lo svolgimento di una manifestazione religiosa sarà chiuso lo svincolo di Monte San Savino in entrata e in uscita. In Fipili invece si segnala che a causa di lavori per la messa in sicurezza del viadotto Ponzano sono in vigore restringimenti di carreggiata tra Empoli ed Empolicentro in direzione Firenze con possibili rallentamenti. Treni fino al 19 agosto per lavori di manutenzione al viadotto Rignano sulla linea Firenze-Roma sospesa la circolazione tra Pontassieve e Figline. Prevista la riprogrammazione quindi del servizio con modifiche di orario e cancellazione dove possibile corse bus sostitutive. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!